Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo proprio via, questa è la frazione Minabello, c'è un concerto di 5 campane e adesso, per una botta di fortuna veramente, c'è la manutenzione di queste campane, quindi si può salire, o almeno posso, salire su questo campanile e vediamo un po' chi ha fuso queste campane. Oggi è venerdì 14 febbraio, San Valentino, e a presto, ci vediamo sul campanile. Allora vi faccio sentire queste 5 campane, più in su siano barigozzi perché hanno un suono molto ultra leggero, sentiamo il campanone. La seconda, seconda campana. La terza campana. Allora 1, 2 e 3 Olè, scusatemi, adesso piano piano vediamo chi è che le ha fuso. Io saluto tutti e poi ve lo dico. A presto e poi magari li sentiamo da sotto. Ecco, allora le campane. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1973. Ottimo. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Allora, le ha fuso Enrico II Ottolino nel 1970. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ripeto che la suonata non era prevista, sono salito e mi sono partita all'improvviso. Vabbè comunque Campanaro 29 ci sente ancora, se qualcuno interessa il mio dito funziona nonostante tutto ciò. E adesso eccole qua, vi ho fatto anche sentire un po' gli intocchi delle campane grosse. A presto e un buon San Valentino. A presto. 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 A presto.